Strutture sportive nel degrado e congestioni approssimative. Il meet-up amici di Beppe Grillo di Sulmona critica l'operato dell'assessore comunale Nicola Angelucci e punta il dito contro l'amministrazione comunale definendo la claudicante in merito al proprio patrimonio immobiliare dello Stato in cui versa. Nella lunga nota inviate i riferimenti sono scritti nero su bianco, l'affidamento in gestione dell'allora unico campo da tennis scoperto nel complesso sportivo dell'Incoronata, affidato con deliberazione dell'aggiunta comunale numero 176 del 3-6-2010, già scaduto il 31 ottobre 2010. E' ancora la gestione del campo da rugby che risulta essere stata effettuata con una gara nel 2013 per la stipula di un contratto decennale ad un canone ridotto, contratto mai effettivamente sottoscritto dall'unica società che vi partecipò, con una convenzione in imminente scadenza. Poi ci sarebbe una pista di pattinaggio mai messa in funzione, anzi lasciata in totale abbandono e quindi inservibile. Inchiosa dunque la pista di atletica il cui bando scadrà quest'anno è la gravosa situazione della palestra a pluriuso Nicola Serafini, con annessi locali, ristoranti e 150 metri quadrati di alloggio del custode, tuttora detenuti da una società commerciale condannata a relativo rilascio. Il primo giugno 2015 un giudice dello Stato italiano accertava un danno pari a 100.000 euro, in aggiunta inoltre Eurocento di penale per ogni giorno di mancato rilascio spontaneo dei beni per un totale di oltre 190.000 euro. Convenzione scaduta il 30 giugno 2012, ma non finisce qui. Il Meetup chiede se i canoni di localizzazione vengano regolarmente pagati, poiché se così non fosse, domandano, chi risponderebbe per il mancato incasso e per il conseguente impoverimento del pubblico erario? Introiti certamente utile, viste le sangui giacente delle disponibilità economiche e comunali.